salve a tutti amici e amiche in questi giorni i vostri commenti sono stati tantissimi vi ringrazio di cuore e per i nuovi iscritti siete più che benvenuti più leggevo i commenti di questi giorni più mi accorgevo che mancava qualcosa qualcosa di molto importante nel dibattito che emergeva e non mi riferisco alle persone che già mi seguono da un po e sono molto attente a questi argomenti che con le loro osservazioni spesso contribuiscono in modo significativo ad arricchire il contesto ma pensavo piuttosto a quella piccola percentuale di meno del 5 per cento di visualizzazioni che sono utenti insoddisfatti quelli che continuano a credere che la russia sia invincibile che volendo può vincere la guerra in due giorni che credono che l'ucraina sia il male e l'europa sta supportando una guerra sbagliata a questo punto mi sono chiesto posso fare qualcosa per far cambiare loro idea e non posso pretendere tanto lo so come so bene che a larga maggioranza questo piccolo 5 per cento sono profili falsi per azioni che cercano di impedire ai canali come il mio di raggiungere un pubblico più ampio ma parlo degli utenti veri all'interno di quella percentuale di italiani che hanno queste convinzioni così radicate e radicali mi sono chiesto posso fare una piccola azione per mostrargli un punto di vista diverso dal mio e a quello a cui sono abituati più ci pensavo più mi veniva in mente constantine di inside russia quest'uomo di mezza età mio coetaneo fra l'altro è padre di famiglia che con il suo modo di parlare e argomentare alla capacità di mostrare al mondo le cose dalla prospettiva di un russo magari ho pensato se queste persone in italia che spesso non parlano inglese che non cercano di certo contenuti in inglese su youtube se potessero ascoltarlo una sola volta chissà non dico che cambierebbero idea però quanto meno potrebbero avere a disposizione un punto di vista diverso sulla russia e sul conflitto quindi eccomi qui oggi per un video speciale una specie di via di mezzo fra una reaction come la chiamano i giovani è una sintesi di alcuni suoi contenuti una specie di introduzione al suo canale quindi in qualche modo oggi sto andando contro i miei interessi pubblicizzando un altro canale qualche giorno fa ho scritto un'email a costantin perché colpito dai suoi video e dal suo tono così asciutto e pulito per tante riflessioni così intime che fra l'altro condivido ho pensato di proporgli di fare una specie di video intervista lui rispondendomi via email oltre che a ringraziarmi è rimasto un poco perplesso della cosa per un problema linguistico soprattutto che renderebbe poco pratica una live insieme mi ha risposto comunque che volendo gli italiani che vogliono seguirlo possono semplicemente attivare il traduttore automatico qui su youtube ed è vero certo ha ragione potrebbero farlo ma detto francamente conoscendo gli italiani so che non succederà la maggior parte non usa quella funzione ma semplicemente perché la maggior parte degli italiani non cerca affatto i contenuti in inglese quindi oggi ho deciso di tradurre una parte dei suoi discorsi e commentarli fra l'altro prendere stralci di questi e sintetizzare qualcuno dei suoi video per mostrarvi giusto qualche esempio del suo punto di vista da uomo nato in russia e che vi ha vissuto a lungo che ha notato di certo i cambiamenti nel paese negli ultimi anni una persona che fra l'altro si nota che è profondamente dispiaciuta per quello che sta facendo il suo paese e per la crisi profonda che il governo sta causando pubblicando questi contenuti inutile dirlo si espone ad enormi rischi non è facile per un russo parlare di queste cose comunque al di là poi della mia sintesi poi più andavo avanti nella realizzazione di questo video più mi rendevo conto di quanto fosse importante capire il suo punto di vista perché solo confrontandoci con diverse visioni e interpretazioni della realtà si può crescere e maturare quindi perdonatemi se ogni tanto farò dei commenti estrapolando i discorsi cercando di mettere insieme le idee perché scrivendo e transcrivendo i suoi monologhi non ho potuto fare a meno di notare certe analogie con il nostro paese problemi classici di politica e corruzione che abbiamo in comune ho preso parte quindi dei suoi monologhi e per esempio alcuni fatti legati alla televisione russa e ai politici russi di cui abbiamo fra l'altro anche spesso sentito parlare anche noi nei nostri telegiornali quindi bando alle ciance e iniziamo proprio ieri ha pubblicato il suo ultimo video da cui prendo giusto alcune parole dall'inizio del suo monologo quindi queste sono le sue parole se succede qualcosa di brutto a un paese ad esempio una crisi finanziaria un brutto terremoto un'alluvione catastrofica questa crisi può essere risolta in un tempo relativamente breve con molti sforzi di tutta la popolazione ci sono voluti dieci anni per gli stati uniti per uscire dalla crisi del 29 15 anni alla germania per riprendersi e ricostruire il paese dopo la seconda guerra mondiale e la russia ne ha impiegati 20 per riprendersi dal crollo dell'unione sovietica immagino che ci vorranno meno di dieci anni per l'ucraina per riprendersi con il sostegno di tutti i paesi del mondo che la sostengono l'ucraina tornerà a brillare in futuro ma per quanto riguarda la russia le mie previsioni di ripresa non sono altrettanto favorevoli io credo che ci vorranno molti decenni e almeno due generazioni per riprenderci e vi dirò con cosa i russi dovranno confrontarsi in futuro io credo che invadendo l'ucraina più di due anni fa vladimir putin abbia commesso numerosi suicidi incluso uno personale sia politico che fisico io credo che a questo punto non ci sia una via d'uscita facile per lui e ciò che è molto peggio è che ha ucciso il futuro dei russi in natura o meglio in fisica esiste il principio di causa ed effetto putin ha ordinato di distruggere il paese vicino e uccidere persone innocenti e questo sai che causerà effetti che creerà molti cambiamenti e ancora più forti saranno le cause tanto maggiori saranno i loro effetti il cambiamento che la russia sta facendo l'ucraina in questo momento è un esempio perfetto di questo principio la causa è stata che la leadership russa si è arrabbiata ha invaso l'ucraina e ha iniziato a uccidere persone e l'effetto è che la russia si sta isolando e sta morendo in molti modi economicamente demograficamente politicamente le industrie stanno morendo la ricerca scientifica sta morendo eccetera eccetera e la russia ne sta sentendo gli effetti in questo momento che parlo tre settimane fa ho già dedicato un video a questo argomento intitolato la russia è nei guai ponendo le prove ho raccontato di cose terribili che accadono realmente in questo momento in molti ambiti in russia ho esposto le prove che la russia sta affondando e l'ho paragonata al titanic la nave all'inizio diede l'illusione di restare a galla per 90 minuti dopo aver colpito l'iceberg ma alla fine era condannata proprio nel momento in cui aveva colpito l'iceberg e anche se all'inizio le cose sembravano normali a bordo poi a un certo punto sono precipitate molto velocemente lasciate che vi dica cosa penso su quello che accadrà alla russia in futuro e quando dico questo mi riferisco ai russi non alla russia perché cos'è la russia è un territorio in cui vivono delle persone alla fine alcune aree verranno colpite duramente altre meno ma i loro effetti li vediamo già da adesso l'economia russa non sta bene è febbricitante un proverbio russo può riassumere molto bene questo concetto adesso ci sono solo i fiori le bacche arriveranno dopo la russia è stata isolata economicamente per un paese che si basa sulle risorse naturali è sempre di peso dalle risorse naturali estratte dal terreno e scambiate con valute forti tre principali risorse hanno fatto la russia il petrolio il gas naturale e l'estrazione dei metalli questo è tutto la russia non produce nient'altro nessun prodotto o servizio richiesto nel mondo lo vediamo molto bene adesso il mondo sopravvive senza i prodotti russi continua ad andare avanti per così dire e la russia sta attraversando un periodo molto difficile invece vivendo senza i prodotti occidentali ed è un dato di fatto la russia non sta vendendo più come prima le proprie risorse e c'è una possibilità una grande possibilità che non recuperi mai le vendite che faceva nel passato e a causa delle forniture globali di petrolio gas è semplicemente un gioco a lungo termine prima che in europa si adatteranno a usare forniture diverse come il gas liquefatto dagli stati uniti il petrolio dal medio oriente e le fonti rinnovabili i contratti per le forniture energetiche sono contratti decennali perché i paesi hanno bisogno di stabilità energetica ed economica quindi questo significa che interrompere questi contratti con la russia avrà delle ripercussioni economiche per un lungo lunghissimo periodo di tempo ma anche il crollo delle esportazioni delle materie prime non è il problema più grande dell'economia russa che si sta allontanando dal mercato globale per un mercato controllato dallo stato lo stato acquisisce ogni giorno più potere e le piccole imprese sono costrette semplicemente a sparire le piccole imprese sono la base dell'economia sono la classe media in realtà la base di ogni economia di ogni nazione mentre in russia il governo non ritiene la piccola e media imprese necessaria in quanto è indipendente composta da persone che fanno domande hanno idee sulla libertà diritti personali vorrebbero cose come la democrazia garanzie e controllo sui politici e così via sono persone che viaggiano liberamente quando hanno i mezzi per farlo pensano liberamente quindi la classe media non è necessaria ad uno stato totalitario e questo sta facendo di tutto per distruggerla aumenta le tasse per le imprese aumenta la regolamentazione del mercato e altre cose meno edificanti in questo momento le piccole imprese sono gli imprenditori che urlano dal dolore e lo so perché ho parlato con parecchi di loro e stanno dicendo che presto saranno costretti a operare nel mercato nero operare illegalmente e questa soluzione non durerà a lungo perché questo tipo di illegalità verrà perseguita dallo stato e lo stato può spegnere tutte queste piccole aziende molto velocemente ma ricrearle beh è tutto un altro discorso perché non le puoi ricreare altrettanto velocemente quindi lo stato russo non solo sta spegnendo le piccole imprese sta rendendo le condizioni insostenibili per esse uccidendo lo spirito imprenditoriale stanno riportando insomma tutto quanto indietro alla vecchia unione sovietica dove tutti quanti erano dipendenti dallo stato dello stato e ricordo che questa nuova classe è nata nel 1991 con le persone che volevano fare affari creare prodotti offrire servizi ma negli anni 90 nessuno sapeva come bisognava coltivare lo spirito imprenditoriale nelle persone l'intraprendenza le persone dovevano crescere imparare e fare esperienza una delle cose positive di boris yeltsin il primo presidente della russia e che ha effettivamente coltivato lo spirito dell'imprenditorialità ha dato alle persone libertà di fare le loro scelte d'affari e creato opportunità li ha spogliati di tutte le vecchie regole le normative e praticamente di tutte le tasse e così via e tutti dicevano che in russia gli anni 90 erano terribili certo ma era il tempo in cui il popolo imparava nuovi modi di vivere e quando hanno imparato hanno iniziato a rendere la russia migliore e quello che sta facendo lo stato adesso è che sta semplicemente distruggendo tutto questo i risultati di 30 anni di crescita e quanto ci vorrà per ricostruirlo da capo una volta distrutto e ci sono tutti i segnali che lo stato controllerà la vita delle persone come nella vecchia unione sovietica dove darà uno stipendio minimo a tutti noccioline purché non muoiano di fame e tutte le persone vivranno con il minimo sindacale di donazione da parte dello stato tutto questo mi ricorda la vecchia unione sovietica dove tutti lavoravano per il governo tutti avevano lo stesso stipendio e io mi ricordo i miei genitori che erano professionisti lavoravano duro avevano abbastanza soldi per poter mangiare e non mangiavamo molto non mangiavamo bene non riuscivamo a ottenere nient'altro che questo quindi questa è la situazione verso cui stiamo andando adesso verso la povertà in generale la povertà è quello che prevedo per il popolo russo la qualità della vita che ha raggiunto dei buoni standard nella metà degli anni 2000 è in declino e crollerà in modo catastrofico e poi c'è il problema del crimine secondo vladimir putin 700.000 uomini stanno combattendo in ucraina in questo momento questo è l'unico dato che abbiamo non dico che sia affidabile voglio dire putin ha mentito così tante volte al suo popolo ma supponiamo che abbia ragione supponiamo che circa 700.000 uomini stiano combattendo in ucraina bene supponiamo che una parte di quei uomini feriti o meno tornerà in russia prima o poi con i loro traumi i feriti gli infermi e la sindrome post traumatica ci sarà un enorme problema di ordine pubblico e i dati statistici del 2022 dal 2022 in poi parlano di un'impernata nei casi di crimini più efferati in tutto il paese putin fra le altre cose ha promesso a quei soldati che torneranno dal fronte la garanzia di occupare posti politici di candidarsi per elezioni municipali ha detto espressamente che questi eroi saranno i futuri capi della nazione ed è già successo per una decina di volte che questi soldati si sono candidati ricevendo zero voti perché la gente ha paura di loro perché sono stati coinvolti in casi di violenza depressione uso di droghe la gente ha paura e rappresentano un grosso problema per la società in generale e poi c'è il problema dell'isolamento qui costantin parla di qualcosa che ho già trattato trattato anch'io nei miei video precedenti che riguarda le sanzioni poste dall'occidente alla russia e che ci sono persone oggi in russia che credono che se la guerra finirà senza dire come in qualche modo è convinta che le sanzioni verranno revocate ovviamente niente di più sbagliato non esiste nessun motivo per pensare che se la russia decida di ritirarsi domani dal territorio ucraino così come dalla crimea le sanzioni vengano revocate anzi ci sono tutti gli elementi per credere che finché la russia non paghi ammenda dei crimini di guerra e dei danni inflitti in ucraina non se ne discuta nemmeno di farle evocare le sanzioni figuriamoci se l'ucraina dovesse arrendersi o perdere la guerra quelle sanzioni potrebbero persistere per sempre ma continuiamo con le parole di costantin poco meno di 50.000 rubli netti al mese è lo stipendio medio di un cittadino che vive a mosca non consideriamo le zone rurali dove potrebbe essere molto molto meno 50.000 rubli al mese sono circa 500 euro al mese per vivere nella capitale prendete questo valore per quello che è è chiaro perché no penserete magari ok russia è tutto meno caro anche a mosca no no i dati potete trovarli voi stessi in rete ma i generi alimentari costano praticamente come in italia un caffè da 1 a 1 euro e 60 la pasta da 1 euro a 2 euro al chilo il pesce e la carne 3,57 euro al chilo e via così a questo punto 500 euro al mese in media non sembrano più uno stipendio dignitoso soprattutto perché in quella media a mosca poi ci sono anche i pochi milionari oligarchi che vivono nei palazzi d'oro e quelli che probabilmente tirano a campare con 50 euro al mese non 500 ma va bene ora in italia il reddito mensile medio degli italiani è di 1400 euro al mese per intenderci ora non voglio entrare in questo discorso più di tanto perché un'idea della situazione in italia me la sono fatta anch'io avendo lavorato per istat per due anni ed avendo intervistato più di 2000 famiglie italiane proprio su questi aspetti fra l'altro poi magari ecco un giorno vi racconterò delle mie interviste ma oggi il soggetto è la russia comunque se pensate che l'italia con uno stipendio medio mensile tre volte tanto quello russo se la passi bene allora la russia con un terzo di quello stipendio come sta ma a prescindere ora da questo discorso economico e premetto che io non sono un economista non quanto costantino almeno il punto che mi ha veramente sorpreso in questo ragionamento non è stata la povertà incalzante quanto i discorsi che ha fatto il governo russo sulla sostenibilità di questi soldi di questo stipendio medio medio affermando che ogni famiglia dovrebbe coltivare un appezzamento di terreno di almeno 150 metri quadrati e che quell'orto sarebbe sufficiente a sfamare per un anno intero una famiglia di quattro persone io di agronomia non ne so niente quindi lascio giudicare a voi secondo voi ditemi nei commenti 150 metri di terreno possono sfamare una famiglia di quattro persone per un anno intero andiamo avanti e vediamo poi cosa succede oltre a incentivare la popolazione a trovare un apprezzamento di terreno da coltivare parliamo del reclutamento dei soldati da mandare al fronte se un uomo oggi in russia decide di offrirsi volontario per l'operazione speciale perché attenzione non bisogna chiamarla guerra se qualcuno dice quella parola in russia rischia sette anni di carcere duro e quindi a quel punto puoi essere arruolato a forza gratis senza stipendio se ci si offre volontari la retribuzione al mese è di 210 mila rubli più un bonus di un milione e centomila rubli alla fine del servizio 210 mila rubli al mese per andare in ucraina sono l'equivalente di 2248 euro al mese e poco più di 11 mila euro di bonus finale sono una cifra esorbitante per un russo giusto considerando che lo stipendio medio è di 500 euro al mese medi per fare un paragone con l'italia un soldato italiano per fare una missione di pace all'estero riceve uno stipendio minimo di 3500 euro al mese parliamo del soldato semplice i graduati arrivano a percepirne fino a 7800 al mese quindi non so se ho reso l'idea se poi consideriamo che un drone i più famosi quelli commerciali i dji quelli per fare le riprese ai matrimoni ai concerti quelli che vediamo usare dai soldati ucraini che lanciano le granate o fanno saltare in aria i golf cart o la motocicletta su cui vanno l'assalto e russi quei giocattoli costano una media di 500 euro a pezzo quindi fatevi due conti su chi ci perde di più in questo scenario ora uno direbbe facile no se mediamente un russo prende 500 euro al mese 2000 euro al mese sono una cifra che convincerebbe chiunque giusto bene il punto è che poi viene molto comodo promettere questo stipendio a centinaia di migliaia di soldati quando poi alla fine solo pochissimi di questi torneranno indietro per incassarlo quindi è molto facile per un governo promettere questi capitali in una guerra di invasione sapendo che solo una piccola percentuale di questi stipendi verranno erogati ma andiamo avanti una delle cose che colpisce di più nei discorsi di costantin è la sua buona conoscenza della storia del paese essendo coetanei anche io ricordo benissimo gli anni 90 e quel breve momento luminoso in cui tutti nel mondo abbiamo creduto che la russia potesse risorgere ed aprirsi ad una visione più cosmopolita con l'occidente l'inizio degli anni 90 con il crollo dell'unione sovietica portò ad un clima di distensione globale le lancette dell'orologio della fine del mondo venivano portate finalmente indietro di qualche minuto e tutti facevano un grosso sospiro di sollievo ma quella speranza poi non è durata tanto perché la nuova federazione russa finì presto in mano a pochi potentissimi oligarchi per la storia che tutti conosciamo oggi forse putin ebbe una certa popolarità all'inizio della sua carriera illudendo la popolazione ma a detta di costantin nessuno è contento di quello che sta facendo al paese le elezioni sono diventate una farsa e il capo del governo vive chiuso nel suo castello di carta circondato da fedelissimi e protetto 24 ore su 24 il fatto che sia odiato è stato ampiamente dimostrato dalla storia nel corso della sua carriera politica ha subito qualcosa come 10 attentati personali il primo nel 2000 e oggi nessuno in russia è contento di questa guerra di invasione a prescindere dal fatto che si rischino sette anni di galera a chiamarla con il suo vero nome poi mancano all'appello meccanici a migliaia tecnici prigionieri e anche donne prigioniere da dati alcuni dai dati raccolti dai cecchini ucraini ci sono le prove e anche messaggi e immagini che ex prigioniere russe vengono inviate al fronte con lo scopo di infiltrarsi nella popolazione e pugnalare alle spalle i soldati ucraini al fronte e tutto questo avviene alla luce del sole mascherato dalla propaganda del regime con i suoi cartelli nelle strade e le televisioni come dire ogni giorno fa di tutto per scrivere la propria narrazione in modo che la massa non parli del conflitto come di una guerra ma qui constantine continua a parlare strettamente dell'aspetto economico la disponibilità di soldati è calata paurosamente e il governo promette cifre astronomiche per reclutarlo putin nelle sue dichiarazioni assurde continua a dire che ci sono abbastanza soldati nella sua operazione speciale e non è necessaria nessuna mobilitazione mentre continua a pagare sempre di più per quelli da mandare al fronte e come dire questo è un circolo vizioso che dimostra che esiste invece una debolezza interna molto critica cioè che non può comunicare alla popolazione una mobilitazione apertamente e non vuole per il rischio che ci siano disordini in tutto il paese o peggio altra notizia che poi lui stesso commenta il governo ha appena proposto di inviare scooter elettrici in battaglia il senatore maxim evanov ha dichiarato che non ci sono abbastanza scooter al fronte affermando che sono utili per trasportare lanciagranate e sono silenziosi per muoversi dietro le linee nemiche e piazzare mine e altre cose che come sappiamo gli scooter elettrici sono nati per fare qui sono eronico scusate qualcuno dovrebbe dirgli che un motore elettrico e le sue batterie sono belle calde e tipo non è il rumore il problema quando si usano dall'altra parte sensori ottici e termici ora sul fatto che al fronte siamo abituati a vedere i soldati russi muoversi su scooter e motociclette non è una novità da una parte come ho detto nel mio video precedente la russia è a corto di mezzi corazzati in modo cronico dall'altra la motocicletta essendo più leggera rischia meno di saltare su una mina ma per contro non offre nessuna protezione contro l'artiglieria e droni e qualsiasi cosa che non sia una pistola ad acqua constantine sottolinea che il governo russo vive in una realtà parallela molto lontana da quello che sta succedendo al fronte e che probabilmente lo sa ma la narrazione che continua a fare è questa un'altra notizia arriva sempre dal parlamento russo da quello che in italia definiremo senato un senatore ha proposto di creare una legge per permettere l'arresto di cittadini che hanno usato le emoji nelle chat già la senatrice ilena sederenca ha proposto di seguire l'esempio della bianorussia e di riconoscere alcune emoji come estremiste adesso sono io a parlare scusate ma quali emoji forse queste queste qui o queste altre queste sono le peggiori senatrice per citare le parole della senatrice oggi nessuno dubita che chat ed emoji siano socialmente pericolose specialmente le emoji non stiamo parlando di like e dislike che i tribunali già riconoscono come azioni giuridicamente perseguibili ma mi riferisco proprio a quelle immagini emoji che possono essere di natura radicale e bisogna rendere le persone legalmente responsabili per quelle immagini questa cosa è stata imbarazzante da un punto di vista umano e commenta costantin specialmente perché il reato di estremismo come detto è paragonabile scusate è perseguibile con sette anni di galera in russia la cosa più assurda fra le altre cose è che ilena sederenca questa senatrice dalle idee così brillanti è il membro del consiglio per lo sviluppo della società civile e dei diritti umani cioè il suo compito è di proteggere la libertà di espressione e i diritti umani in russia un altro senatore artium shakhen credo si pronunci così l'altro giorno il 24 giugno ha proposto di vietare gli iphone in russia se apple apple scusate non permette l'installazione delle applicazioni nei negozi russi è stato così presentato un disegno di legge sul divieto di discriminazione nei confronti delle applicazioni di sviluppatori russi negli store online apple applicazioni sviluppate dal team condotto dai senatori shakhen klitos e il senatore lugavoy quest'ultimo uomo d'affari famoso senatore russo fra le altre cose è ricercato a livello internazionale per l'omicidio di alexander litienko nella proposta di legge viene detto che alcuni produttori di dispositivi principalmente apple vietano l'installazione delle applicazioni indipendenti russe ora per chi ne sa qualcosa di iphone io no ne so pochissimo ve lo dico sa che gli iphone sono tra i dispositivi meno compatibili per le applicazioni non supportate ma fa ridere la cosa perché in sostanza queste applicazioni russe sono chiaramente prodotte come strumenti di ascolto e monitoraggio delle attività da parte dei servizi segreti russi e questi soggetti al senato si lamentano che apple non li vuole rendere compatibili e questi brillanti senatori hanno minacciato la apple di vietare le vendite degli iphone in russia per caso che la apple ci aveva già pensato a marzo 2022 a vietare la vendita dei suoi dispositivi in russia che poi vabbè hanno continuato a circolare nel mercato nero cioè un russo oggi se vuole comprare un iphone in russia deve farlo illegalmente cioè senza che apple lo sappia e lo autorizzi altra notizia il governo russo ha dichiarato di essere andato fuori budget per l'assistenza sanitaria e le protesi per i soldati alla fine del 2023 con una cifra come 466 mila soldati disabili e invalidi registrati presso il fondo dell'assicurazione sociale quasi mezzo milione di feriti e infermi che chiedevano assistenza sanitaria protesi e sedia a rotelle prendete questa cifra come volete ripeto è un russo e constantine a dirla 466 mila nuove persone hanno bisogno di questi servizi e questo dato è un record storico dice con i dati statistici raccolti a partire dal 2012 nell'ultimo anno è aumentato del 42 per cento con 137 mila nuove persone in più rispetto all'anno precedente mentre se parliamo solo di invalidi cioè gente che ha perso un braccio o una gamba secondo l'agenzia rostad che raccoglie le statistiche di invalidi in russia dal 2022 al 2023 c'è stato un aumento del 30 per cento con 57 mila nuove persone aggiunte al registro secondo gli studi demografici del famoso ricercatore alexei raksha per citare le sue parole gli scienziati demografici attribuiscono l'aumento del numero di uomini con disabilità disabilità alla guerra sono convinto che ci siano realtà decine di migliaia se non centinaia di migliaia di militari che soffrono di disabilità e questi dati sono stati pubblicati solo parzialmente o completamente manipolati dal governo al ribasso sospetto che i numeri reali siano ampiamente nascosti ok ora passiamo avanti due notizie riportate da constantin da parte della televisione russa la parola de guerra come ho detto anche prima è una parola bannata in russia quello che accade in ucraina in russia viene chiamato svo che sta per operazione speciale militare nessuno può dire che si tratta di una guerra proprio questo lo dice la legge russa se è un cittadino comune chiama questa operazione speciale con il suo nome guerra rischia sette anni di galera ok l'abbiamo detto anche prima non si sa quante persone siano state arrestate fino ad oggi per questo motivo ma la propaganda televisiva come dire è capace poi di sorprendere tutti in diretta nazionale sul primo canale che un po' l'analogo dirai uno per intenderci con il suo analogo presentatore televisivo un po il nostro bruno vespa per intenderci che proprio in diretta qualche giorno fa se ne è uscito così parole sue secondo la mia opinione per quello che sta succedendo adesso viviamo in una sorta di imitazione di vita pacifica che non è così male ma credo che diventi inappropriata rispetto agli eventi di cui siamo testimoni perché i bambini muoiono non si sa quante vittime ci sono fra i civili questa è guerra vera guerra senza pietà e crudele e dobbiamo prenderla per quello che è il commento di constantine in questo contesto è davvero prezioso la propaganda di regime che incappa in un errore linguistico sul primo canale in modo così plateale secondo lui è un segno evidente che non riescono a nascondersi neanche da se stessi e dalla verità che emerge sempre ma allo stesso tempo migliaia di civili milioni di civili in russia non possono usare quel termine apertamente perché è vietato e centinaia di persone sono in galera per questi motivi la loro vita è stata rovinata distrutta per sempre andiamo avanti la prossima notizia televisiva riguarda ancora uno show televisivo dove il capo del comitato investigativo alexander batrykin funzionario russo un vero pezzo forte in russia ex primo procuratore generale della russia è stato un grande sostenitore di putin intimo consigliere il suo amico è un personaggio controverso vi passo il link della sua scheda su wikipedia per chi ama collezionarle è considerato insomma uno degli uomini più potenti del paese in questa trasmissione sempre in diretta presso il forum legislativo di san pietroburgo durante un discorso sulle politiche di immigrazione in cui batrykin fa dei ragionamenti che farebbero sembrare un leghista italiano tipo un dilettante evidenzia l'importanza di adottare politiche definite e chiare per la gestione dei flussi migratori data la crisi economica in cui verte il paese e poi poco dopo se ne esce con un lapsus freudiano che è palesemente intenzionale dicendo parole sue vorrei veramente sapere quando avremo delle buone leggi prodotte da questo stato di stupidi il lapsus spiega constantine derive dal fatto che parlamento russo nella lingua russa finisce con la parola duma lui ha chiuso la parola con dura con un gioco di parole in cui è passato praticamente per fare un esempio con il nostro con il nostro linguaggio italiano a dire doveva dire casa del governo una cosa del genere è passato col dire casa degli stupidi qualcosa del genere questo lapsus di cui si è giustificato poi immediatamente ha fatto sorridere i presenti che l'hanno colto come un errore di pronuncia però è ovvio che si è trattato di una frecciata non proprio insignificate insignificante soprattutto poi sedetta da un uomo col suo peso politico in una trasmissione indiretta di chiaro orientamento politico quindi non solo si è dimostrato un estremista di destra in termini di politiche e di accoglienza ai flussi migratori ma non è mancato di lanciare una pesante accusa al governo non tanto velata secondo constantine questi segnali indicano che qualcosa si sta muovendo nelle fondamenta del regime qualcosa che scuote le basi che potrebbe portare a dei cambiamenti anzi si aspetta che qualcosa potrebbe cambiare molto presto al governo e questo lo spero caro amico russo tutti qui in italia e in europa se non nel mondo intero vorremmo la fine di questa guerra e del massacro in corso per tornare alla pace se questo comporta un cambiamento negli organi di governo in russia allora che ben venga questo cambiamento nessuno odia i russi e il popolo russo ma tutti si chiedono fino a quando i russi saranno disposti a sopportare il one man show a cui siamo abituati da troppo tempo comunque in risposta a questa gaffe di patrick in diversi parlamentari si sono dichiarati profondamente offesi dicendo che il capo del servizio investigativo ha offeso tutto il popolo russo che ha votato per loro negli ultimi giorni si sta parlando proprio di notizie fresche c'è stato un continuo botta e risposta a una specie di rissa politica al governo con senatori che stanno cercando di costringere patrick in a scusarsi mentre ovviamente lui dalla sua posizione fa loro il dito medio questo dibattito interno mostra secondo constantine che il modello politico creato da putin non è così forte come si vuol far credere e che ancora delle forze interne capaci di opporvisi andiamo avanti con le altre notizie recenti la banca centrale russa ha annunciato la grave crisi economica in corso a causa delle sanzioni internazionali le ultime azioni hanno causato il massiccio blocco dei pagamenti bancari compresi quei paesi che sono stati considerati amichevoli con la russia vedesi per esempio la cina scusate se si sente rumore di temporale perché sta piovendo forte nessun paese al mondo può isolarsi specialmente quando affronta un'economia di guerra la storia insegna l'isolamento monetario porterà inesorabilmente alla morte dell'economia russa questo è stato annunciato mercoledì scorso durante il forum legislativo di san pietroburgo dal primo ministro e dal vicepresidente della banca centrale russa secondo lui è necessario risolvere i problemi con i pagamenti il prima possibile e non escludere meccanismi esotici o superati dice quello che ieri ci sembrava impopolare e arcaico come il baratto o lo scambio di risorse così come l'uso della cripto valuta ora tutto deve essere provato tutto deve essere testato perché se non ci sono pagamenti normali per i prodotti per l'attività economica estera per le esportazioni e le importazioni per noi sarà la fine questi gravi problemi sono iniziati dall'ultimo anno con le azioni del ministero del tesoro statunitense che ha agito sulla turchia e sulla cina per impedire le transazioni che aiutavano l'industria militare russa la stessa cina si è unita al blocco per evitare lei stessa di essere sanzionata constantine da economista riconosce che questo problema era già stato annunciato mesi e mesi fa e che il governo aveva ampiamente minimizzato la cosa ma ora i dirigenti della banca centrale russa non possono non dire la verità dato che c'è l'enorme rischio di un collasso dell'economia quindi per arrivare alla parte finale del video di oggi farò una breve sintesi uno degli ultimi video di constantine dove provo a sintetizzare velocemente una notizia che è arrivata fra l'altro anche da noi nei nostri telegiornali e che non è passata in secondo piano ma che a detta di constantine a sentire le sue parole è veramente drammatica e sarà un enorme autogol tattico per il paese anche di questo vi lascio il link in descrizione se volete vederlo come ho detto all'inizio se non siete pratici con l'inglese potete usare il traduttore automatico non ho fatto tante nonostante faccia alcuni errori ogni tanto l'argomento riguarda il siluramento del ministero della difesa serghei sogu ministero appunto della difesa ministro della difesa il 12 maggio 2024 vladimir putin ha sorpreso tutti con il più grande sconvolgimento del sistema politico russo degli ultimi anni il ministero della difesa da 12 anni e intimo amico personale di putin serghei sogu è stato licenziato e trasferito ad alta altra destinazione così è stato detto il ministero della difesa russo a detta di constantine è l'uomo con più potere in assoluto che ha accesso ai codici atomici l'uomo a capo di tutte le forze armate di terra ad aria e di mare a detta degli insider che si occupano di politica interna del paese questo ruolo è stato assegnato oggi ad una nullità come andrei belusov assistente personale di putin per sette anni prima di questo ruolo è stato promosso amministro della difesa belusov è un economista che ha studiato in russia che ha condotto previsioni economiche studiando inflazioni e variazioni dei prezzi di mercato per anni ha iniziato a lavorare nel sistema economico quando brechov dell'ex unione sovietica era ancora il segretario del partito comunista qui constantine dice parole sue per quanto un economista sia agli antipodi rispetto all'ambiente militare rappresenta la scelta più sbagliata che si possa fare mentre c'è una guerra in corso quindi gli ucraini ringraziano putin per questo prima di sergei soggy c'era anatoly serdekhov grazie al fatto di aver sposato la figlia di un amico di putin serdekhov si ritrovò a passare a gestire a passare dal mobilificio di famiglia al dipartimento della difesa ma come dire un tipo come lui poteva essere solo odiato dalle forze armate e poco dopo infatti è stato silurato anche lui arrestato per corruzione mazzette e incompetenza in generale per spiegare quello che sta accadendo constantine parla del fatto che il potere in russia è strutturato in modo piramidale con un solo uomo al potere penso che questo lo abbiamo capito anche noi perciò è fondamentale come in una setta che chi occupa posizioni in basso dimostri fedeltà incondizionata al leader superiore incontrastato poi più potere ai più sei in alto nella scala gerarchica e cosa è il potere come si definisce il potere in russia constantine parla di tre caratteristiche del potere in russia autorità personale denaro quindi gestione finanziaria potere legislativo e militare l'autorità personale è quando un funzionario ha il potere di assumere e licenziare persone e creare e liquidare nuovi posti di lavoro all'interno del sistema politico russo un esempio di questo tipo di autorità su tutte fu joseph stalin che riuscì a raggiungere il potere assoluto circa cento anni fa proprio con la sua autorità il potere del denaro invece è il più semplice più denaro hai a disposizione più sei riuscito a rubarne dalle casse dello stato più ne puoi muovere puoi dirigere il flusso di questo denaro fare leva sui funzionari sotto e sopra di te la gestione finanziaria insomma è il secondo posto nelle tre caratteristiche del potere e della gerarchia in russia un uomo molto potente in russia per esempio è il ministro delle sovvenzioni federali per l'edilizia che decide dove e a chi indicizzare i fondi per costruire penso che questa cosa in italia in genere è tipica della mafia mi pare di capire quindi più denaro passa fra le mani del ministro delle infrastrutture più ne entrano nelle sue tasche e più aumenta così il suo potere sto parlando della russia adesso è non fraintendetemi come siete malpensanti e poi c'è il potere legislativo e militare più un politico può avere influenza sulle leggi e norme e può dare ordini esecutivi a cui le altre persone devono obbedire più potere a quindi il ministero della difesa russa il ministro della difesa russa avendo con sé tutti e tre questi requisiti cioè autorità potere economico potere legislativo e militare è il ministro più potente della russia essendo capo dell'esercito e delle forze armate in generale la sua autorità è assoluta e illimitata i soldi che gli girano per le mani sono di budget miliardari ovviamente molte delle spese militari sono intenzionalmente mantenute segrete le cosiddette black box budget sono quelle cifre di cui nessuno ti chiederà come sono come sono state spese perché nessuno in russia ha l'autorità per sindacare quelle spese un esempio su tutti il sistema di difesa missilistico russo dagli anni 90 sono stati spesi trilioni di rubli per questo ora sottolineo che queste sono le parole di costantin un russo che parla del suo paese non sono io a parlare ok lui dice nella realtà questo sistema di difesa aerea è fatto di carta esiste solo sulla carta i droni ucraini e gli attacchi missilistici lo provano ok è chiaro che costantin più un economista che un analista militare un po fa un po discorsi sul senso comune un po come gli analisti nostrani dimenticano che i numeri e tabelle non servono a niente quando la realtà mostra un'efficienza e un'efficacia molto diversa da quella che la propaganda vuole raccontare però è vero due anni di conflitto hanno mostrato all'occidente che le difese missilistiche russe sono state ampiamente sopravvalutate dall'occidente negli ultimi vent'anni per debolezze e criticità che solo chi mastica questi argomenti può intuire di queste debolezze e dei problemi fra le altre cose ne ho parlato ampiamente anch'io nei miei video se volete darvi un'occhiata ho risposto proprio ad un opinionista italiano su questi aspetti di sicuro sentire un russo criticare così apertamente i sistemi di difesa aerea mi ha fatto specie perciò ripeto costantin ha una formazione da economista non conosce in modo profondito la tecnologia militare parla per quello che sa che ha sentito dire in un certo senso anche da noi è pieno di italiani convinti che gli f35 siano dei bidoni che la tecnologia della difesa italiana sia solo un buco dove buttare i soldi e nient'altro però ecco è molto vero che la guerra in ucraina ha evidenziato tutte le debolezze e le mancanze del sistema di difesa russo per un conflitto che in realtà no per loro doveva essere una sorta di conflitto asimmetrico data l'enorme disparità di tecnologie in campo e numeri quindi in questo senso si è dimostrato molto deficitario e da un punto di vista legale e legislativo beh il ministro della difesa ha in mano i contratti di un milione e mezzo di militari che devono seguire ordini diretti senza discutere senza se e senza ma in altre agenzie governative c'è la possibilità di opporsi agli ordini al dipartimento della difesa e nelle forze armate ovviamente no disobbedire nelle forze armate russe va bene se va bene porta al carcere se va meno bene alla morte e quindi per questa logica che è comune a tutte le forze armate in realtà almeno in russia l'uomo più alto in grado è il ministro della difesa e dato che la storia umana ha una lunga lunghissima tradizione di generali che si sono ribellati e hanno ucciso imperatori e re organizzato golpe di stato eccetera eccetera fra l'altro penso che l'impero romano sia l'esempio più vicino che possiamo possiamo prendere come riferimento per questi motivi oggi putin ha molta molta paura di mettere un chi che sia che non può controllare nel ruolo del ministro della difesa e se è arrivato addirittura a silurare il suo migliore amico per questo beh facciamoci due domande ed è per questo motivo che putin non ha mai messo nel ruolo del primo ministro della difesa un uomo carismatico un uomo pieno di risorse economiche un uomo con una grande esperienza militare dall'inizio della storia della federazione russa tutti i ministri della difesa sono stati uomini fedelissimi a putin ma tutti anonimi e nessuno di loro aveva la minima esperienza militare tutti sono stati odiati dai generali loro sottoposti e tutti sono finiti male inesorabilmente questi ministri non avevano nulla a che fare con l'esercito fino al momento in cui si sono trovati ad occupare la poltrona belussov quindi non è diverso dagli altri prima di lui non ha mai prestato servizio ho fatto il militare ha iniziato a lavorare nel sistema economico nel 1981 diventando un burocrate dagli anni 90 ha ricoperto diversi ruoli istituzionali fino al 2020 quando è diventato il supervisore delle politiche economiche dello stato l'unica attività di questo tecnico nella sfera politica è stata la sua campagna di raccolta fondi nel 2023 agendo sulle grandi aziende cercando di riempire il vuoto nel bilancio della banca federale per questo fu odiato dagli oligarchi e persino dagli amici stretti di putin per aver raccolto 3 miliardi di dollari in tasse extra da loro dicendo agli oligarchi di offrirsi volontari perché la russia aveva fatto tanto per loro e adesso era il momento di ripagare soprattutto minacciandoli che se non avessero pagato se ne sarebbero pentiti negli altri paesi questa si chiama estorsione o ricatto in russia prende il nome di pagare volontariamente le tasse sui guadagni alcuni l'hanno definita la tassa regalo per il presidente putin ma comunque così è stato mentre su sergei sogu prende un mandato d'arresto internazionale per crimini di guerra difficilmente potrà lasciare la russia per questo motivo quindi il licenziamento di sergei ha sorpreso tutti ovviamente tutta la stampa internazionale come sappiamo la spiegazione più ragionevole per questo cambio di vertice nel ruolo più importante dello stato e che ora è necessario integrare l'economia di guerra con l'economia del paese e beluso avendo dimostrato di poter ottenere risultati in passato potrà fare le cose meglio di altri dimostrando anche a tutto il mondo che la russia si sta muovendo in una economia di guerra in realtà insomma quest'uomo è la marionetta perfetta per gli interessi personali di putin di tenersi saldo al potere ed evitare che nessuno possa contraddirlo niente di più molto difficile che un analista economico possa risolvere la gravissima situazione economica e la distruzione delle maggiori risorse militari del paese in due anni di conflitto una soluzione estrema per una guerra che la russia non sta vincendo nel suo discorso di insediamento per capire di chi stiamo parlando beluso diceva questo l'argomento più importante di tutti adesso è l'assistenza sanitaria per i soldati che tornano per le vacanze ha detto così ha detto vacanze non licenza ha parlato proprio di vacanze e non trovano posto negli ospedali civili dove non vengono trattati bene con discorsi poi piuttosto vaghi sull'utilizzo delle tecnologie di pernotazione elettroniche che non sarebbero pronte e su cui c'è bisogno di lavorarci un po' questi sono i discorsi del ministro della difesa il sospetto di constantine è che tutta questa storia di cambio di vertice non sia stata per mettere un nuovo ministro più competente a gestire il conflitto ma semplicemente istilurare sergei isolarlo e isolare il suo staff dal potere togliergli i poteri arrestando fra l'altro le persone più vicine a lui e più importanti che lo seguivano come per esempio il tesoriere timov ivanov belusov sarà in grado probabilmente di incentivare la produzione bellica per l'andazzo che abbiamo visto e documentato anche nel mio video precedente continuare a scambiare la qualità con la quantità produrre di più per meno denaro ma non ci saranno grandi cambiamenti perché il complesso industriale russo è già al limite operando al massimo delle sue capacità la questione ora è chi si occuperà della supervisione strategica della parte militare se il nuovo ministro è solo un burocrate economista putin lo farà si auto proclamerà il nuovo stalin stratega imperatore controllando tutto paranoico riguardo la sua sicurezza personale e paranoico con i suoi generali che lo pugnalino alle spalle non vuole nessuna ingerenza da altri personaggi carismatici o di esperienza militare e competenza specialmente da persone che possano essere amate o rispettate nelle forze armate quindi belusov è manovrabile è il signor nessuno che non ha pretese e conosce il suo posto e questo per l'ucraina a detta di costantin è davvero un'ottima notizia la situazione quindi secondo la sua prospettiva è questa quindi siamo molto molto lontani dagli scenari ideali che descrivono i filo russi italiani nostrani ed è ovvio che sia così voglio dire no chi conosce meglio il paese delle persone che ci vivono molte delle cose che descrive constantine non sono sfuggite agli osservatori internazionali ed è proprio da queste fonti che io ho trattato e tratto sempre i miei video che parlano di putin della situazione economica delle risorse militari e delle perdite del conflitto ora fatevi due conti e trovate le differenze fra la visione di questo youtuber russo e le versioni che circolano in youtube italia e nella stampa e nella televisione italiana io personalmente devo ammetterlo non ero a conoscenza di tanti aspetti interni della russia prima di conoscere constantine e ho imparato tanto da lui tante cose studiando i suoi discorsi e anche leggendo fra le righe perché non manca mai di mandare segnali nascosti non manca mai di esprimere la sua preoccupazione e il suo dissenso è come non capirlo la russia anzi il popolo russo non merita di essere trascinato a fondo per colpa di politici folli che lo governano molte scelte di governo la paranoia nazionalista le manie di superiorità e non accettare di confrontarsi ad un livello paritario con le altre nazioni hanno prodotto questi risultati azioni di causa ed effetto che nella storia umana non hanno mai significato nulla di buono e ci sono stati momenti negli ultimi trent'anni in cui si è fatto di tutto in europa per creare le basi per un'apertura e che chissà cosa sarebbe stata oggi la russia se avesse avuto politici lungimiranti in questo senso che avessero in qualche modo aperto un pochettino la loro mentalità verso l'europa immaginate un'europa forte dall'inizio della federazione russa un'europa che magari si poteva estendere dall'oceano atlantico al pacifico immaginate che impatto avrebbe avuto questo tipo di no collaborazione su tutta la stabilità globale è chiaro ora sto parlando un po per utopia ma non dobbiamo dimenticare che i popoli russi sono un'enorme varietà di culture religioni popolazioni anche molto diverse fra loro non è un paese così unito come loro stessi vogliono credere perciò tendo a credere a constantine quando dice che il governo sta vacillando sulle sue stesse fondamenta di carta e potrebbero esserci grandi cambiamenti in corso ma questo sarà solo la storia a dircelo quello che spero io è che la storia non ci metta tanto a palesarsi perché tutte queste vittime della guerra non sono una bella cosa non se ne vede una fine e tutto dipende da un solo uomo al governo quindi cari amici la mia sintesi e traduzione di alcuni contenuti di constantine finisce qui fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate le vostre impressioni e riflessioni soprattutto voglio sapere se 150 metri di terreno possono sfamare una famiglia di quattro persone per un anno e con questo chiudo per oggi non dimenticate di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace un grande saluto con affetto a constantine che ringrazio per il suo grande contributo alla causa per rendere un pochino il mondo migliore vi passo il link dei suoi video da cui ho tratto questi contenuti oggi è un abbraccio a tutti voi che siete arrivati fino in fondo a questo video alla prossima